bene buonasera a tutti bentrovati come vi avevo annunciato la volta passata avremo come sostenitore come partner per le nostre serate anche il signor Vellini che è il titolare della web tv Piero da Saronno qualcuno mi ha già detto che la conosce perché ha già visto qualche servizio quindi i nostri incontri questo e anche i prossimi saranno oggetto appunto di un filmato di questa web tv e quindi saranno visibili da tutti quanti basta poi collegarsi appunto in internet cliccando su questo sito Piero da Saronno che poi apre appunto il canale con tutte quante le proposte di questa web tv questa sera secondo incontro sul nostro percorso dalla città reale alla città ideale ci occuperemo della urbanistica romana se vi ricordate la volta scorsa io vi avevo detto che su tutti e quattro le schede del nostro itinerario ho messo questa definizione che come tutte le definizioni non è definitiva ed esaustiva ma insomma è abbastanza esauriente per capire il concetto l'urbanistica è la disciplina che si occupa dell'organizzazione delle città della dotazione di ubicazione degli edifici delle infrastrutture per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti questo rimane l'assunto di fondo l'altra volta se vi ricordate parlando del mondo greco abbiamo detto che i greci che sono stati dei grandi pensatori dei grandi filosofi dei grandi teorici avevano fatto già un primo screening quello che era la struttura cittadina la parte alta acropoli la parte residenziale astu quella che conteneva il luogo più forte di quella che è la comunità civile cioè la gorà la piazza e poi la corà che è il territorio dove appunto si lavorava per il mantenimento della città credo che la differenza fra l'incontro della volta scorsa e quella di questa sera stia nella frase di strabone che ho messo proprio lì all'inizio della scheda adesso ce la leggiamo con calma insieme perché c'è proprio tutta una certa come dire sicurezza e forse anche una punta di orgoglio romano rispetto al mondo greco dice strabone mentre i greci consideravano di aver raggiunto la perfezione con la fondazione di città preoccupandosi della loro bellezza della sicurezza dei porti e delle risorse naturali del paese i romani pensarono soprattutto a quello che i avevano trascurato pavimentare le strade incanare le acque costruire fogne che potessero evacuare nel tevere tutti i rifiuti della città selciarno le vie che percorrevano tutti i territori conquistati tagliando colline colmando cavità in modo che i carri potessero raccogliere mercanzie proveniente dalle imbarcazioni tanta poi l'acqua che gli acquedotti portarono per far scorrere interi fiumi attraverso le città e condotti sotterranei tanto che ogni casa ha cisterne e fontane abbondanti strabone ci dice i greci hanno inventato una struttura urbanistica della città ma i romani l'hanno perfezionata con uno spirito forse più pragmatico più pratico in qualche modo più funzionale non bastavano le zone della città i quartieri l'acropoli la gorà ma ci voleva anche tutto un sistema di quelle che noi chiamiamo oggi le infrastrutture che la rendessero il più vivibile possibile ce ne rendiamo conto se pensiamo alla nostra realtà moderna la confrontiamo con un certo passato voi ve l'immaginate una città senza fogne eppure parini nelle sue odi civili parla di una milano che chiaramente era tutt'altro che una bellissima città non diversa dalle altre proprio perché non c'erano certi servizi fondamentali che rendono vivibile la città oppure altre forme pensate al discorso dell'acqua corrente strabone ricorda che i romani hanno costruito anche grandi acquedotti per fornire di acqua le città quindi diciamo che il passaggio fondamentale è se i greci hanno dato il primo schema della città che è quello a struttura ortogonale con le strade a 90 gradi se vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato di ipodamo da mileto questo architetto che nasce appunto in asia minore le colonie greche che sembra essere il fondatore di questo schema della città struttura a scacchiera ortogonale i romani anche gli etruschi che sono l'anello di congiunzione rispetto alla civiltà romana hanno in qualche modo riutilizzato e perfezionato proprio questo tipo di struttura però strabone rivendica una maggiore concretezza praticità pragmatismo degli architetti degli urbanisti romani che hanno saputo dare la città romana quei servizi che forse nel mondo greco non erano ancora stati pensati ha detto hanno fatto belle città ma le nostre sono più funzionali e tutto sommato bisognerà riconoscere che i romani hanno fatto questo salto in avanti ecco allora dicevamo i romani hanno sicuramente adottato anche loro lo schema reticolare delle vie ortogonali che abbiamo visto non è proprio un'invenzione esclusivamente romana però come dire l'hanno perfezionato da un punto di vista della funzionalità la cosa singolare se vedete questa diapositiva è proprio questa ma sono quelle contraddizioni che nella storia molte volte si presentano hanno fatto città ordinate funzionali pratiche vivibili ma la loro città la loro capitale a roma era un totale caos forse come dire proprio perché non ha mai avuto un disegno urbanistico che la in qualche modo modellasse da un punto di vista dell'ordine della praticità è una città che è nata come dire in modo così spontaneo e si è aggregata attraverso i diversi quartieri che la componevano in modo altrettanto spontaneo ma non ha mai avuto quella quell'ordine quella urbanistica quella pianificazione della rete stradale che ha reso famose le città romane nell'impero ma che non ritroviamo nella capitale dell'impero sarà una contraddizione ma è proprio vero roma sapete viene messi insieme con questi villaggi che erano collocati sui sette colli poi si chiude questo recinto il cosiddetto pomerium dei primi sette colli che la parte più antica e diventa una specie di alleanza sacra fra questi villaggi palatino quirinale squilino ceglio avventino eccetera eccetera il fiume che lambiva la città tra l'altro nell'ansa del tevere dove c'è l'isola tiberina che rendeva più agevole il passaggio del fiume tutti quanti chi conosce roma lo sa oggi c'è l'ospedale fate bene fratelli in quel punto il fiume per quanto possa essere pericoloso da attraversare avendo l'isola in mezzo riduce quello che è la distanza dei bracci del ponte per cui diventava un guado un passaggio molto più facile ma guardando tutte le piante di roma del passato non possiamo certo dire che roma avesse una buona urbanistica che avesse fatto tesoro di tutti quegli i progetti di quegli interessi che gli architetti romani avevano poi declinato nelle città che i romani hanno fondato purtroppo la loro capitale resterà una grande città caotica tutti quanti dicono che roma è caotica anche oggi ma vi posso garantire che era caotica anche nel passato con un dato che forse ci deve far riflettere nel momento del più alto vertice dello sviluppo dell'impero romano sono dati abbastanza consolidati roma contava già un milione di abitanti si calcolavano mediamente 350 400 mila cittadini liberi e 600 mila schiavi quindi una città già caotica di per sé sapete che gli incendi si moltiplicavano all'infinito tutti quanti abbiamo in mente il caso clamoroso di nerone eccetera eccetera ma non è l'unico caso quindi una città veramente non sempre all'altezza di quel ruolo di capitale del grande impero che ha dominato mentre ha saputo far meglio nelle città che poi ha fondato perché i romani da gran praticoni quali sono hanno sempre pensato che il modello su cui costruire una città che fosse ordinata e funzionale hanno preso come dire spunto da quello che era l'accampamento militare quello che loro chiamavano il castrum quando i romani mettevano giù un accampamento nei territori che conquistavano lo modellavano grosso modo con questa struttura era un quadrilatero o rettangolare qualche volta anche quadrato le tende dei dei vari legionari vedete che nella zona centrale c'era sempre qualcosa di più significativo eccolo qui quello che potremmo definire il pretorio dell'accampamento romano alla tenda del comandante del generale del tribuno quale fosse il suo grado dipendeva appunto dalla consistenza dell'esercito e poi un luogo anche per la dunata delle truppe sempre qui nella parte centrale e poi tutte queste varie tende se era un accampamento provvisorio o modeste abitazioni magari non particolarmente elaborate se diventava uno stanziamento militare stabile ma questo modello quello dell'accampamento romano a scopo militare diventerà il modello delle città romane in tutto l'impero per ogni tipo di fondazione ce ne potevano essere di modelli diversi lì avete visto delle tende questo ha già delle strutture come dire di edilizia un pochettino più consolidate ma vedete che l'impianto rimane sempre quello un grande quadrilatero due strade principali che si incrociano nord sud cardo est ovest decumano questi sono i due assi fondamentali di qualunque città romana e hanno sempre questo orientamento anche sulla scheda ve l'ho riportato nord sud cardo est ovest la via decumana altro modello di accampamento romano che però oltre ad essere un presidio militare diventerà proprio il modello con cui romani hanno fondato le loro città nei territori che hanno conquistato man mano allargavano il dominio di roma città a me molto cara questo è l'impianto romano di torino detto così sulla piantina dice eh sì si vede insomma che quadrato eccetera eccetera però guardate come si può leggere altrettanto bene su questo che è un disegno d'architettura su quella che invece è la pianta presa da google oggi dove la città romana allora vedete il perimetro che segna questo quadrilatero circa 700 metri di lato il cardo era questo il decumano era questo vi ricordate abbiamo fatto più di un'uscita a torino anche con le nostre gite questa è la via garibaldi quella via rettilinea che abbiamo percorso a piedi per andare a trovare la cappella dei banchieri dei mercanti questa è una via che non abbiamo percorso la via 20 settembre e questa è la piazza castello dentro il palazzo madama ritornando indietro si vede anche molto bene eccolo qui dentro il palazzo madama c'era una delle due porte della città dico delle due perché la porta nuova è scomparsa la porta susa oggi il nome di una stazione ma la porta romana non c'è più mentre la porta palatina che stava in capo alla via che si chiama il cardo c'è ancora e poi appunto ve la mostrerò eccolo qua allora il quadrato romano nel centro storico di torino che ancora conserva quest'impronta romana molto molto fedele e molto evidente ripercorrendo questo quadrilatro tratteggiato con questa linea rossa voi vedete proprio quello che è il profilo della città romana andando torino vi ricordate vi avevo detto torino diventa capitale del ducato di savoy nel 1559 emanuele filiberto trova un villaggio 11.000 anime ripetiamo a qualche dato perché serve a fare dei confronti molto utili secondo me milano allora superava i 200.000 abitanti torino 11.000 proprio robetta da poco e ha mantenuto questo in questa impronta romana e su quel modello ha ampliato successivamente lui i suoi successori questa città che è rimasta profondamente segnata da questa rete ortogonale delle strade questa forse qualcuno la ricorda l'abbiamo intravista passando mentre uscivamo dal palazzo barolo dove siamo andati a vedere gli affreschi del legnanino questa è una porta romana che sopravvive ancora oggi a torino ed è la porta palatina vicinissima al duomo c'è anche proprio un brandello di strada romana che passava dentro il fornice dei tre archi e si è salvata miracolosamente in altre epoche qualcuno pensava di buttarla giù perché ci non serve più a niente poi qualche mente intelligente l'ha mantenuta e quindi abbiamo questo reperto romano nel cuore di torino vedete anche che nelle stampe del cosiddetto teatro un sabaudio questo l'avevamo visto forse avete visto venaria esposto in diversi pannelli questo è una stampa della torino della prima metà del 1600 quando volevano pubblicizzare diremmo così oggi la loro capitale nuova anche in giro per l'europa vedete come su questa stampa si indica il quartiere nuovo che viene fatto appunto da carlo emanuele primo che è questo il quartiere di porta nuova tanto per capirci ma poi segna quello che era il vecchio reticolato quindi torniamo di nuovo palazzo madama ricordando che la città finiva qui oggi da piazza castello palazzo madama c'è tutta la via po che va verso il po ma il quadrato romano di torino questo vecchio era ancora profondamente segnato nelle mappe fino addirittura a epoche molto avanzate perché questa è una stampa della prima metà del 1600 altra città che conserva in modo prepotente questa marca romana questo reticolato delle strade perfettamente che si incrociano creando degli isolati tutti quanti uguali questa è osta a osta che i romani fondano chiamandola augusta pretoria mentre torino era augusta taurinorum anche augusta pretoria questo caposaldo verso la strada delle alpi che attraversavano poi la catena delle montagne per espandere i domini romani vedete che ha mantenuto nel suo centro storico una perfetta simmetria di quelli che sono appunto gli assi dell'urbanistica romana anche qui abbiamo spostato non sempre le due strade si incrociavano perfettamente proprio nel centro poteva essere qualche volta anche spostata da una parte dall'altra a torino è sul lato oest a osta verso il lato ovest quindi abbiamo il cardo e il decumano ecco qualche scorcio di quello chi conosce osta forse rivedrà queste cose con molta tranquillità qualche scorcio di ruderi romani nella città di aosta sono le due porte questa è la porta pretoria dall'esterno e dall'interno queste sono torri medievali non vanno confuse però questa cinta muraria con l'arco a tutto sesto è proprio ancora di origine romana e quindi è proprio una persistenza di questa antica fondazione romana che è rimasta nel centro di questa città oggi una città vivace turismo eccetera eccetera però questa marca romana si legge ancora perfettamente dentro la città di aosta questi disegni sono i soliti disegni di architetti che ricostruiscono vi fa vedere grosso modo come doveva essere la osta romana che abbiamo intravisto su quel primo disegno in precedenza anche qui il famoso quadrilatero è sempre segnato da quello che è il profilo tradizionale quindi una forma rettangolare questa è la porta pretoria che abbiamo visto prima e poi ci sono anche dei come dire degli agglomerati di qualche casa fuori dalla cinta muraria chi conosce osta sa che proprio sulla traiettoria della porta pretoria c'è l'arco di augusto aosta conserva anche un arco di trionfo romano molto semplice un granito molto scuro tra l'altro un po ricoperto anche da smog quindi non è particolarmente smagliante però è un altro monumento romano e si trova qui eccolo qua questo è l'arco di augusto chi conosce aosta sa che ci sono i resti di un teatro di anfiteatro che sono proprio collocati in questo angolino della città sempre lungo quello che era il profilo delle mura della città romana altra città che conserva tracce di questo mondo romano susa piccolissima città che oggi è il capoluogo della valle omonima tanto discussa per le questioni della tave eccetera eccetera la val di susa anche susa conserva pur essendo una città che ormai è un'impronta molto medievale questa porta romana che vedete qui addossata perché poi succedevano di queste cose la porta è stata salvata addossata a questa chiesa che nient'altro che la cattedrale di susa perché susa è diocesi autonoma non molto grande però insomma sacro e profano civile e religioso che si accostano come tante volte succederà in molte città anche nei secoli successivi verona anche verona una città di forte impronta romana anche se tutto il suo apparato medievale l'ho un po camuffato allora leggendo le mappe proprio riusciamo a ricostruire questo passato il fiume adige che fa le sue ansie attorno alla città proprio in questa profonda ansa dell'adige viene creata quello che è il reticolo romano di di verona non è un quadrilatero perfetto perché dovuto allo smussamento degli angoli proprio per l'ansa che fa il fiume hanno ritenuto che fosse un luogo molto protetto ben sicuro circondato da acque non lo potevano fare un quadrato perfetto però vedete che la rete stradale mantiene sempre quell'impianto reticolare caratteristico delle città romane hanno fatto un grande pasticcio e confusione nella capitale a roma ma hanno saputo costruire con ordine disciplina e molta funzionalità e rigore in tutte le fondazioni che hanno fatto successivamente ecco ingrandiamo quello che era il reticolo romano di verona quindi ricominciamo a individuare alcuni luoghi che ci sono comunque cari anche nella memoria l'arena che tutti quanti conosciamo era fuori dalla cinta romana oggi queste piazza bra l'arena è uno dei monumenti simbolo della città di verona spettacoli concerti eccetera eccetera però vedete che c'era con la sua funzione appunto di anfiteatro romano siamo nel primo secolo dopo cristo però quello che ne invece l'impianto urbanistico della città è chiuso dentro due lati di mura e poi questo percorso rettilino dei vari isolati del centro cittadino tutti quanti circondati dall'acqua dell'adige questa piazza che corrisponde al foro romano allora dovremmo ricordarci come terminologia quella che per i greci è la gora la piazza il luogo d'eccellenza per la riunione della gente per la comunità che vive la sua dimensione sociale trova invece qui a verona quella che oggi è piazza dell'erbe che è il mercato sostanzialmente vecchio di verona ma che conserva ancora questa impronta di quello che era stata il luogo cittadino della della civiltà appunto urbana nel centro di verona stesso era il foro romano oggi è proprio piazza delle erbe eccolo qua sempre con le foto tipo mappe google vedete proprio come oggi verona è molto più grande di quel di quella porzioncina romana che i romani hanno costruito attorno all'ansa dell'adige però vedete che si intravedono ancora quelli che sono gli assi principali quindi decumano e cardo anche se sono orientati in modo un po sfalsato perché il vero nord sarebbe in questa direzione quindi sono un po ruotati però sempre si parla di due assi stradali fondamentali che determinano anche le altre strade e gli altri isolati vedete qui quella che l'arena oggi tutta quanta compresa dentro il tessuto urbano del centro di verona ma avete visto che nella mappa precedente era proprio fuori dalle mura perché come dire non ci stava proprio dentro quel piccola porzione di territorio che il fiume chiudeva con la sua ansa i romani hanno costruito tante città man mano l'impero si ingrandiva fondavano sempre nuove colonie che diventavano luoghi della presenza della civiltà della cultura dell'arte della lingua della religione romana nei diversi territori che venivano sottomessi la storia ha ampiamente dibattuto se i romani sono di grandi conquistatori o terribili tiranni forse un po questo è anche un po quello i romani erano molto leali e generosi con le gli alleati che non tradivano l'alleanza con roma usavano il pugno di ferro con quelli che tradivano e lo usavano veramente in modo un po pesante devastazioni saccheggi gente venduta schiava ribelli che venivano magari anche crocifissi non si contavano l'importante è una regola se volete un po ferrea un po crudele per la nostra mentalità moderna ma per loro ha funzionato per quasi 400 anni fedeli e leali con gli alleati terribili con i nemici soprattutto quando erano vinti e quindi diciamo la fondazione delle città era un modo per occupare per romanizzare i territori che si conquistavano e guardate che ripeto questo concetto iniziale se roma era caotica e confusa perché non ha mai avuto un piano urbanistico tutte le colonie romane che sono state fondate hanno mantenuto sempre quell'impronta che ha dato efficienza ordine e praticità alla vita di queste colonie romane che venivano fondate treviri treviri oggi si trova proprio ai confini fra francia e germania fu un'importante colonia romana al nord verso i confini del reno ricordando che quando il famoso impero romano si diverrà in quattro pezzi diocleziano sarà una delle quattro capitali roma perderà questo ruolo centrale perché ormai una città è come dire non più funzionale alla difesa dei confini e l'avremo ora milano treviri sirmio e nicomedia sapete che diocleziano divide impero d'oriente e d'occidente due imperatori contemporaneamente e ogni impero occidente e oriente diviso a sua volta in due prefetture treviri era una delle quattro capitali del mondo romano siamo fra terzo e quarto secolo dopo cristo però vedete che anche in questo disegno che ricostruisce quello che era il percorso della città romana di treviri rimane sempre fedelmente improntato a questo schema che non è mai stato cambiato qui vedete poi una porta della città che adesso in un altro plastico si vede meglio questi sono gli sono plastici non sono ne sono ricostruzioni da modellini tanto per capirci sono gli isolati con la con la via principale che esce in questo caso è il cardo e si avvia verso quella che era una porta della cinta muraria di treviri la porta cosiddetta nigra che in questa diapositiva si vede molto bene che oggi va treviri troverà ancora questo manufatto romano che lì soltanto da circa 1800 anni vedete che i romani come abbiamo detto l'anno scorso abbondano nell'uso dell'arco a tutto sesto che è una struttura molto funzionale pratica per costruire qualunque tipo di costruzione che sia un acquedotto che sia una porta un acquedotto trionfo e questa porta nigra perché oggi oggi i secoli hanno veramente fatta diventare scura anche per quello che l'inquinamento cittadino quindi porta nera porta negra è una delle porte che sono rimaste a presidio di questa città fondazione romana verso il nord dei confini dell'impero anche colonia la colonia tedesca è una colonia è una colonia di fondazione romana questi plastici ovviamente oggi a colonia non ci sono tanti ruderi umani da vedere trevi riconserva tanto per avere qualche segno questa porta che proprio un monumento simbolo della città colonia non ha più nulla di romano però vedete che nella ricostruzione di quello che era l'impianto cittadino anche qui un grande spazio che corrisponde a quello che potremmo definire il foro in questo caso tutto quanto spostato verso un lato della città ma i diversi isolati mantengono sempre questo rigore degli assi ortogonali delle strade che formano questa scacchiera sarà monotona ma i romani per tutta la loro storia hanno adoperato questo schema che diventava pratico funzionale e dava anche una certa vivibilità alla vita appunto cittadina l'altra volta se vi ricordatevo insisto un po con parecchie immagini su quello che era il cuore greco di neapolis nuova polis nuova città napoli abbiamo visto in diverse diapositive come pur nei suoi ingrandimenti delle epoche successive manteneva quel vecchio cuore di origine appunto di colonia greca e romani non hanno fatto nient'altro che avvalorare che sottolineare che riprendere quello che è il vecchio tracciato appunto del quadrilatero che qui in questo caso era già greco ma che poi romani hanno soltanto come dire confermato consolidato nell'arco della loro storia qui si vede già quello che il profilo del mare vedete che la città si vedeva molto bene la volta scorsa in quelle diapositive il centro urbano era distante dal mare non raggiungeva la costa del mare questi sono già ampliamenti successivi perché anche l'altra volta abbiamo mostrato una piantina in cui si vede già il castello maschio angioino e tutto quello che poi si affaccia di napoli direttamente sulla costa del mare interessante questo modello che i romani hanno come dire proprio esportato e diffuso tutto il territorio saranno stati un po monotoni ma loro pensano di essere terribilmente pratici avendo un grande impero da governare avevano bisogno veramente di qualcosa che fosse al massimo della funzionalità che cos'è la centurazione lo trovate proprio sull'ultima parte della scheda che è distribuita questa sera allora se i romani costruivano città dallo schema rigidamente ortogonale a scacchiera con queste strade a 90 gradi anche il territorio agricolo attorno alle città veniva improntato con questo schema allora sempre le mappe di google ce lo fanno proprio vedere e ce ne danno testimonianza limpidissima lasciate perdere il tracciato dell'autostrada questo siamo in zona vicino a cesena quindi costa romagnola tanto per intenderci questa autostrada che è bologna rimini e poi va giù l'adriatica ma guardate come sono organizzate le reti stradali della campagna che è sopravvissuta dopo secoli a questa impronta romana vedete che tutte a parte dicevo l'autostrada col suo svincolo tutte queste stradelle di campagna sono rigorosamente improntate a un reticolo sempre di lotti quadrati di terreno questa specie di mosaico è chiaro che poi i diversi appezzamenti all'interno possono essere culture diverse ma viste dall'alto vista da quello che è proprio la figura zenitale quindi satellitare vi farò proprio vedere che il territorio è tutto rigidamente costruito secondo una rete di strade che noi oggi diremmo campagnole secondarie forse vicinali o comunali sempre su uno schema sempre su uno schema rigidamente improntato al quadrato la regola era un po questa questo appezzamento che è quello descritto da queste viottoli di campagna che oggi potrebbe essere anche delle strade comunali per carità diventava un lotto di terreno che veniva dato ai soldati quando si congedavano a 45 anni parentesi chi di voi ha fatto il militare sa che anche nella nostra vecchia legislazione militare il congedo illimitato definitivo arriva dopo che il maschietto aveva compiuto i 45 anni perché in teoria fino ai 45 anni non poteva sempre essere richiamato purtroppo le generazioni che hanno fatto le guerre questo l'hanno vissuto sulla loro pelle perché non portava avere anche più di 20 anni se c'era bisogno si era ruolati nell'esercito e i romani avevano già improntato questo schema sociale il soldato il legionario che veniva congedato a 45 anni otteneva un appezzamento di questa superficie che non era proprio del tutto indifferente si parla di qualche ettaro e sempre con questo sistema di questi lotti di terreno perfettamente regolari a forma quadrata diventava il colono romano che coltivava quel territorio e in questo modo i romani hanno romanizzato tante province del loro impero perché obbligavano la loro gente a abitare in questi luoghi a cui regalavano sostanzialmente questi fondi rurali per coltivarli e il sistema se volete che hanno adoperato gli americani con il sistema dei renche per colonizzare i territori dei coloni americani che portavano via le terre gli indiani questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano comunque e qui vedete anche in un disegnino quello che era un gromatico romano sempre in figura da legionario che sta piazzando quella che era la pietra conficcata nel terreno su cui si costruiva poi la groma che è questa specie di diasta con quattro fili a piombo in modo che fosse perfettamente allineata a 90 gradi che dava quelli che sono i vertici di questi lotti romani eccoli qua ogni incrocio delle strade aveva la sua groma ricordatevi che questo è un sistema che è andato avanti per secoli i contodini sanno bene che qualche volta non di epoca romana sarebbe un po raro trovarli però per tanto tempo la pietra il famoso cippo di confine segnava quelle che erano le partiture di quelle che sono i lotti di terreno ancora oggi sapete che i contodini erano gelosissimi che non si muovesse mai la pietra perché era un simbolo sicuro di dove iniziava un po' dire e finiva l'altro quindi una pietra di confine questa tecnica è già nel mondo e nell'urbanizzazione romana anche del territorio che appunto è stata adoperata sempre come criterio cesena ma anche nel territorio ad esempio padovano ecco questa è proprio una pietra gromatica evidentemente è stata ritrovata magari arando qualche terreno venuto su questo blocco si capisce che non è un sasso casuale era proprio questa pietra che conteneva il foro dove si applicava la groma questa specie di croce con i fila piombo che dava questa reticola perfettamente ortogonale oggi geometri parlerebbero di uno squadro agrimensorio che è quello strumentino che i geometri usano per fare i rettifili con le paline biancarosse per poter fare appunto i tracciati di quelli che sono ad esempio dei confini di un lotto e qui siamo invece nella campagna padovana con un ingrandimento della mappa di google rispetto a quella di cesena prima dove vedete però che addirittura abbiamo un paese che sta praticamente a cavallo di due grandi lotti perché poi la campagna è sempre organizzata su questa rete stradale secondaria di lotti sempre quadrati il mosaico che si crea all'interno più chiaro più scuro sono i diversi appezzamenti con culture diverse ma vedete che la struttura reticolare delle strade ci mostra sempre questo reticolo romano che è nella città ma era anche nella campagna nel contado perché i romani lavoravano così dalle nostre parti anche come è stato un importante municipio romano chiamarlo colonia chiamarlo municipio alla colonia era un gradino più basso il municipio era qualcosa di più come dire più in simpatie romani gli abitanti di un municipio molto sovente molto presto diventavano cittadini romani anche se abitavano in provincia e voi sapete che era un grande privilegio io continuo a dire quando faccio lezioni ai ragazzi a storia ricordiamoci che pietro e paolo primo papa e grande apostolo fanno una morte diversa per un motivo molto semplice pietro era un suddito romano ebreo crocifisso san paolo nato a tarso di anteocchio di siria era cittadino romano cristiano ammazzato sì ma decapitato capite che la differenza non era indifferente tanto per capirci anche come è stato un importante municipio romano e quindi vediamo nelle diverse piante di epoche diverse come anche a como è perfettamente rispettata quella che era la tipologia della città romana tra l'altro ci siamo andati due volte l'anno scorso per i nostri itinerari storico culturali e vi ricordate come il centro ancora oggi tutto sommato non dico proprio rettificati perfettamente ma insomma è stato anche un importante comune medievale quindi ha avuto tutte le sue traversie però il centro di como rimane profondamente segnato da questa marca romana delle delle strade appunto ortogonali ovviamente abbiamo un percorso del profilo rettangolare su tre lati como conserva ancora dei buoni tratti di mura sono mura medievali ma che ricalcano le mura romana ovviamente il quarto lato non c'è perché chiaramente il quarto lato è il fronte lago tra l'altro vi segnalo questa è una vecchia mappa ottocentesca epoca austriaca che la piazza cavur era nient'altro che il porto di quello che era como sul lago per cui ben si capisce che tutti i problemi che ha comportato che quando il lago esonda piazza cavur va sott'acqua perché è stato un porto che è stato riempito interrato per avere ancora uno spazio urbano in più però poi la città conserva sempre questa sua impronta romana le diverse piante che vi propongo vi fanno sempre vedere in epoche diverse ma tutto sommato sempre lo stesso tipo di struttura come è stato un bel esempio di municipio romano nella parte nord settentrionale della nostra italia questo modellino ve lo dico perché ci siamo anche stati è proprio un plastico che c'è il museo giovio quello che abbiamo visto per primo è nella parte del lapidario romano c'è proprio questo plastico che segna con il percorso rosso le mura del municipio anche qui tutti quanti vari isolati e poi dopo le varie costruzioni che delimitavano quello che era il percorso della como romana altre piante di altri momenti questa è già una pianta tardo ottocento questa praticamente ricavata dalle pagine gialle e vedete che qui c'è già la diga foranea che è quella che protegge proprio il litorale del lago questa invece molto più bella fa vedere che anche como come tutte le città del resto ha avuto il suo centro che si è mantenuto questo il duomo quindi zona proprio fondamentale ma poi i quartieri che cominciano ad allargarsi attorno alla cinta muraria però questo profilo verde di quella che è la cortina muraria si vede molto bene e quindi ci dice proprio di questa presenza di un'urbanistica romana anche a como il caso di milano il caso di milano dei casi più controversi nel senso che siamo sicuri che era una città romana ma oggi tutti quanti quando andiamo per milano di strade ortogonali a isolati quadrati non ne vediamo più perché è successo veramente tanto nel cambiamento della storia più che millenaria di questa città questo è grosso modo un tracciato con le emergenze monumentali di quella che poteva essere una milano romana allora dobbiamo andare a riconoscere alcuni luoghi che ci sono comunque cari per memoria questa è la zona di piazza duomo che però vedete non era centrale nella romana nella milano romana perché la zona centrale era proprio questa grosso modo tanto per capirci il foro della milano romana come sono tutti quanti conoscitori della storia milanese è praticamente zona biblioteca ambrosiana chiesa di san sepolcro in quella parte della città sotto nei sottrani qualcosa è rimasto ancora c'era proprio il cuore della milano romana poi abbiamo sempre nella milano romana la zona del circo tanto per capirci quindi siamo praticamente guardate tra mia via meraviglie via dante perché questo è sant'ambrogio che vi stupirà sapere nel mondo romano era completamente fuori dalla cinta urbana quindi in aperta campagna poi anche milano aveva il suo anfiteatro che oggi sarebbe sequesto e san lorenzo alle colonne zona diciamo grosso modo porta ticinese quindi anche nella milano romana c'erano tutti quegli edifici capisaldi di quella che era la città romana per eccellenza il foro l'anfiteatro il circo addirittura le terme siamo qui in zona praticamente via francesco sforza e poi c'era addirittura una zona del palazzo imperiale perché fu capitale quindi sempre qui nella zona zona praticamente sì via dante insomma zona centrale ma non quello che il centro urbano oggi perché il centro urbano che oggi fa riferimento su piazza duomo è questo qui è leggermente defilato rispetto a quello che era l'urbanistica romana si vede ancora in questa piantina che le segna per renderle evidenti l'incrocio delle due famose strade tenete presente che però il famoso decumano il cardo romano di milano sono leggermente ruotati di quasi un 45 gradi perché il nord vero sarebbe questo mentre il cardo usciva potremmo dire tra un nord ovest un nord est scusate e dall'altra parte un sud est e poi invece il decumano andava appunto da porta vercellina verso porta romana però non rispetta perfettamente l'allineamento con gli assi dei punti cardinali perché milano romana ha completamente stravolto la sua urbanistica che era romana a tutti gli effetti ci sono tante ipotesi o preparando poi il percorso di questa sera mi sono fatto questa idea allora è sempre stata una città molto vivace politicamente economicamente culturalmente artisticamente nel mondo romano in quello longobardo in quello franco in quello medievale diciamo subito che una città veramente baricentrica in mezzo alla pianura padana che cosa secondo me modesto a mie ipotesi ma non voglio pensare che sia una cosa definitiva che cosa deve essere successo che nella nei vari avvicendamenti delle epoche le quattro porte considerate romane per eccellenza vercellina romana questa che porta aurea e questa che porta ticinese come dire non bastavano più a dare sfogo a tutti quegli assi viari in diverse direzioni che da questa città si muovono poi per il territorio circostante quindi la pianura padana perché abbiamo anche una porta comasina perché abbiamo poi anche altre uscite dalla città quindi secondo me la diversa orientamento delle strade che cominciavano a moltiplicarsi non più soltanto quattro uscite secondo i punti cardinali ha fatto sì che su queste strade si creassero degli agglomerati di abitazioni che hanno lentamente modificato l'impianto quadrato anche se orientato come abbiamo detto leggermente inclinato per farlo diventare sostanzialmente una pianta reticolare a come dire circonvalazioni concentriche oggi quando si gira per milano si capisce benissimo abbiamo un baricentro piazza duomo dei grandi delle grandi assi viari che sono dei raggi che partono da questo centro è una serie successiva di grandi circonvalazioni chiamatele i bastioni chiamatele i navigli chiamatele quello che vuole che non fanno che nient'altro che allontanarsi da un centro cittadino sia come se fosse una vera e propria propagazione attraverso cerchi concentrici questo è un po il senso della trasformazione della milano romana perché è stata una città romana come tutte le altre qui schematizzando in modo un po più semplice quelle che sono le emergenze romane vedete sempre si legge più chiaramente decumano cardo il duomo rimane in questa zona vedete che era proprio un po eccentrico rispetto a quello che era la città romana della milano antica foro che vi ho detto corrisponde grosso modo biblioteca ambrosiana abbiamo le terme in questa zona poi abbiamo le quattro porte però cominciano ad aprirsi anche altre uscite dalla città per cui queste nuovi assi stradali hanno in qualche modo come dire moltiplicato queste vie di accesso di uscita della città dove si creavano degli nuovi quartieri residenziali abitativi che hanno moltiplicato e si è creata da una croce una raggera che ha determinato poi successivamente quella trasformazione di tutta quanta l'urbanistica della città di milano anche qui anfiteatro questo ripeto è sempre san lorenzo le colonne il circo che è proprio compreso se questo è sant'ambrogio capite che proprio siamo qui certo che centro di milano però insomma vediamo che c'è un altro tipo di rientramento perché il vecchio cuore pulsante della città il foro era proprio in una zona che oggi è centro di milano scusate ma non è quel centro urbanistico che tutti quanti riconosciamo in piazza duomo di fatto è così altra piantina di milano che ci fa vedere sempre come si sta già in qualche modo perdendo quella che la trama qui siamo già verso quarto quinto secolo vi ricordo che quest'anno ci hanno detto che è il 1700esimo anniversario del dito di costantino 313 2013 che ha dato alla libertà dei culti cristiani e in quegli anni proprio milano era una capitale tanto è vero che costantino lo fa quale dito non lo fa mica da qualche altra parte perché una città importante dell'impero di quell'epoca e allora ancora una volta mi sembra che abbiamo già familiarizzato un po con le diverse sempre il circo l'anfiteatro il foro e questa che rimane sempre la piazza duomo che era nella città romana leggermente decentrata che oggi è diventato invece il cuore pulsante di quella che la milano di oggi tanto per capirci sapete che a milano non è mai stata povera di acque quindi vediamo che ci sono sempre i corsi d'acqua olona e lambro che la traversano e poi tutti i vari navigli che quindi hanno creato ulteriori come dire possibilità di modificazione senza dimenticarci che poi ci sono anche le questioni militari e storiche barbarossa che è veramente nemico giurato di milano per il motivo molto semplice milano coalizzava i comuni della pianura padana che si volevano ribellare all'impero è sempre una questione che sotto sotto mette mano i soldi se le città italiane si rendevano indipendenti come diventeranno di fatto dopo battaglia di legnano 1176 i soldi dei milanesi non andavano più in germania ma restavano qua e quindi l'imperatore aveva perso un bel po delle sue entrate ecco perché barbarossa odiava milano e amava como che era nemica giurata di milano ma era alleata dell'impero e sapete che barbarossa ha usato la mano pesante con milano tanto è vero che ha non dico completamente atterrato la città ma l'ha distrutta in gran parte e forse nella ricostruzione ha avuto un ulteriore elemento per perdere quella marca romana che l'aveva caratterizzata all'origine della sua storia e qui siamo già una milano più tarda dove si sta cominciando a formare questo anello che non è più assolutamente un quadrilatero ma diventa vagamente una figura tozza ma sempre più circolare che sta in qualche modo modificando quella che l'urbanistica di questa città tanto che nelle mappe cinquecentesche questa è una milano del periodo spagnolo io sfido chiunque a se non lo sapesse a priori dire che questa è una città di fondazione romana è così evidente la circolarità del tessuto urbano partendo adesso sì da quello che il suo centro perché la piazza domo è questo e vedete che proprio al centro di quello che il tessuto della città di milano con tutte le sue mura spagnola che la circondano questo è il castello sforzesco che dovremmo dire diciamo sempre sforzesco dovremmo dire visconte o sforzesco perché lo fanno i visconti e poi lo adobiteranno anche gli sforza che sono quelli che l'hanno adoperato come residenza durante il loro ducato e tutti quanti sapete che il castello sforzesco era nient'altro che una fortificazione addossata alle mura cittadine oggi piazza castello è centro come piazza duomo una volta era già periferia della città perché in queste trasformazioni tra l'epoca romana e quella medievale milano si sta veramente trasformando in una città radiale che ha tutto un'altra urbanistica rispetto a quella che abbiamo visto nella sua fondazione appunto romana iniziale grazie se c'è qualche domandina sempre pronti se so rispondere se no no vi dico che non lo so un laghetto allora io non sono espertissimo di storia milanese perché non è proprio la mia città che ho vissuto da sempre ma non c'è una via laghetto a milano ecco allora ecco io posso dirvi questo per questo me l'hanno detto l'ho sentito anch'io il laghetto che era poi una questione di bacino artificiale serviva per scaricare la pietra del marmo di cardoglia di candoglia che attraverso i navigli arrivava fino quasi in prossimità del duomo e quindi tutto il materiale che è servito per fare il duomo ha navigato su chiacche su dunque candoglia è tra baveno e lago di mergozzo da quelle parti verso gravella una toce si caricava sul toce attraversava il lago scendeva dal ticino poi prendeva il naviglio grande arrivava tra praticamente in zona laghetto milano proprio per il 1500 come il naviglio anche prima anche prima sotto i tracciati anche prima non solo nel 1500 c'erano già come dire corsi d'acqua precedenti che hanno e comunque questo lo dicono tutti quanti i testi buona parte del marmo di candoglia del duomo ha navigato su chiatte lungo i canali o lungo i navigli non è mai stato traportato con carri animali altrimenti diventava un'impresa è già stato ciclopico così costruire quel duomo ma se immaginassimo tutto quel marmo trasportato a carri animali vi posso dire che sarebbe ancora metà da costruire oggi probabilmente Leonardo ha dato dei grandi suggerimenti per le chiuse tracciando alcuni navigli ma il naviglio i navigli milanesi sono stati fatti anche prima di Leonardo Leonardo diciamo che ha dato soluzioni ottimali a quello che è il problema dei dislivelli e delle chiuse sicuramente è stato un grande ingegnere anche idraulico però come dire non possiamo immaginare che solo con Leonardo cominciano i navigli milanesi anche prima tenga presente che il duomo di Milano comincia nel maggio del 1386 e Leonardo è ancora ben distante da queste date non ho detto che fosse già tutta costruita la rete però diciamo che non era il primo Leonardo a pensare i navigli sicuramente li ha organizzati coordinati e perfezionati nel tutta la loro struttura appunto di chiuse e passaggi vari c'è qualche domanda qualche curiosità dovreste inserire a voi qualcosa a me perché siete più milanesi di quanto non lo sia io per cui si 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 vedeva benissimo ma possiamo proprio anche tornare indietro eccolo qua e guardate che era indispensabile che ci fosse questa rete fluviale o comunque è idrica perché sono pesantissimi quei blocchi i navigli del 1100 hanno iniziato dal 1100 vedi la potenza dei mezzi informanti bravo è questo il discorso Leonardo veramente ha dato un'impronta forte anche all'urbanistica di Milano ma non era il primo che ha iniziato a pensare a certe soluzioni è vero che lui è stato un grande genio sul discorso dei dislivelli delle chiuse quello sì perché proprio le aveva pensate e studiate però non era il primo in assoluto sapevo che Milano era un porto e non un porto fluviale sì c'è sempre tutto il discorso che si poteva collegare con Cremona e poi fare un discorso che andava come merci scambiate sì i navigli erano sicuramente una buona anche perché c'è abbondanza d'acqua e c'è un terreno pianeggiante che con una leggera pendenza può far scorrere queste cose provate a immaginare queste cose in altri territori collinosi è impossibile farlo e secondo me credo che sia abbastanza credibile il discorso di dai quattro assi romani si è moltiplicata questa raggira di strade proprio perché è una città veramente baricentica e un territorio favorevolissimo per commerci, per agricoltura, un po' per tutto proprio perché questa è stata la sua forza e anche la sua come dire importanza strategica nel corso della storia un'ultima domanda, mi sembra che come minimo comune denominatore le città normale abbiano avuto comunque sempre un corso d'acqua non è detto non è detto che ci fosse se c'era era meglio però allora erano abbastanza vicine ma non è detto che ci fosse sempre il corso d'acqua dipende da dove sono costruite certo era un elemento che poteva favorire tante cose nella vita di una città il corso d'acqua, questo sicuramente avete visto ad esempio come Verona è proprio nata romana sull'ansa dell'Adige non era un quadrilatero perfetto ma insomma si sono industriati per ricavare questa rete stradale tipicamente romana proprio in quell'ansa molto stretta dell'Adige se non c'è altro ci diamo appuntamento a 15 giorni tratteremo il discorso della città medievale e poi concluderemo il nostro primo percorso di quest'anno grazie a tutti grazie anche a Piero D'Assaronno che è presente con noi questa sera e tornerà anche le altre sere grazie